A risollevare la questione chiusura delle poste di Bolognano e degli ambulatori medici intervengono i consiglieri comunali di opposizione Andrea Ravagni e Bruna Todeschi che hanno sottoposto all'amministrazione comunale un'apposita interrogazione per cercare di capire quale sarà il futuro dell'Oltresarca per quanto riguarda questi servizi. Nell'Oltresarca è stata chiusa prima la posta e poi anche gli ambulatori medici di base, dicono i consiglieri. Va apprezzato il forte impegno del nostro sindaco, continuano, che non ha esitato a scendere in piazza accompagnato da altri colleghi di giunta, consiglieri comunali, membri del comitato di partecipazione e cittadini. Il tema centrale dell'interrogazione riguarda la possibile proposta di apertura di un istituto postale privato. I due consiglieri di minoranza si aspettano anche delucidazioni per quanto concerne la chiusura degli ambulatori dei medici di base. A fronte della proposta fatta dal Comune e rifiutata dai medici di contribuire alle spese per 6 euro all'ora, i consiglieri si chiedono se questi ambulatori rimarranno per sempre chiusi, come è avvenuto nell'abitato di Vigne.